Oltre 100 sono andati addirittura a Roma il 25 marzo per portare la loro istanza al ministro dell'istituzione Abbadia Alpino. La protesta non ha riguardato soltanto la scuola e il personale che verrebbe a non avere più il proprio dirigente, ma ha coinvolto l'intera cittadinanza. Infatti si sono costituiti anche dei gruppi di genitori, Riella Ghezzi che è vicepresidente della consulta e Paolo Giannotti del consiglio di istituto. Perché questa decisione ricadrebbe veramente sulla formazione, su quanto è stato fatto in questi due anni dalla dirigente? Certamente, siamo molto molto preoccupati. Io sono qui non tanto come appunto mi ha qualificata, ma sono portavoce di tutti i genitori che alla notizia si sono come dire stupefatti. Sono rimasti molto male e hanno chiesto aiuto, come dire facciamo qualcosa, facciamo tanto per la preside perché merita dal punto di vista professionale, in quanto in questi due anni la preside ha portato una ventata di ottimismo, di grandissima novità. Ha creato tantissime cose positive, tra cui la formazione della consulta, l'autovalutazione della scuola da parte dei genitori, ci ha veramente dato grande spazio. Anche il consiglio di istituto è tutto schierato, quindi c'è una ventata di novità, ma perché si guarda anche alla formazione, a far crescere i nostri ragazzi. Infatti da quando c'è Yasmina Santini le cose sono cambiate, tutti i genitori sono schierati, una popolazione intera di Civitella, quindi vuol dire che la nostra professoressa, la nostra preside ha lavorato bene e quindi ci siamo mossi per dare una mano perché rimanga.